Qualche settimana fa ho condiviso un video rivolto in particolare a tutti i fotografi professionisti come me che parlava di post-produzione con l'intelligenza artificiale. Se non l'avete visto ve lo linko qua sopra e anche sotto in descrizione andatelo a vedere. Questo video, come era prevedibile, ha fatto largamente discutere e per questo merita un bel po' di approfondimenti. Per la precisione, nel video in questione vi presentavo un software chiamato Imagine AI. Un software basato sull'intelligenza artificiale che ha la capacità di imparare il vostro modo di far post-produzione e di replicarlo in modo impeccabile, riducendo in modo davvero considerevole il tempo di post-produzione delle vostre fotografie e aiutandovi anche a innalzare la qualità del prodotto finale. Esattamente come quel video, anche questo è rivolto principalmente a chi come me fa il fotografo professionista e in particolare a chi lavora all'interno della wedding industry, ma è ovviamente aperto anche a tutte le persone che sono in qualche modo curiose di conoscere quale sia il workflow di lavoro di un fotografo professionista. Per tutti quelli che non mi conoscono, io mi chiamo Roberto Panciatice, sono un fotografo professionista che si occupa principalmente di fotografia di ritratto e di matrimoni esclusivi in giro per il mondo. Personalmente credo da sempre che non esista un workflow di lavoro definitivo e che sia vitale per un professionista sapere aggiornare il proprio modo di lavorare man mano che la tecnologia e gli strumenti a nostra disposizione in qualche modo si evolvono. Se ripenso agli ultimi dieci anni, infatti, il mio workflow di lavoro è stato più e più volte completamente stravolto e questo è successo per l'avvento di tante innovazioni tecnologiche, sia software che hardware, che in qualche modo l'hanno via via reso sempre più efficace, sempre più sicuro e soprattutto anche efficiente. Non pensate a rivoluzioni di chissà quale spessore, spesso sono proprio le cose che stanno sotto gli occhi di tutti e che in qualche modo diamo per scontate a produrre i cambiamenti più evidenti. Vi basti pensare alla commercializzazione di questi. L'avvento degli SSD ha letteralmente stravolto le tempistiche di lavoro di nuovi fotografi. Un tempo, infatti, il solo fare il backup dei servizi fotografici richiedeva anche ore di tempo e questo purtroppo poteva avvenire anche a notte fonda. Non vi dico, infatti, quante volte mi sono trovato letteralmente distrutto dalla stanchezza, ma nonostante questo dovevo comunque aspettare che tutte le foto fossero messe in sicurezza. E queste tempistiche non venivano modificate solo dalla tipologia degli hard disk, ma anche dalle schede usate per scattare le fotografie, o dai lettori delle schede, oppure anche dalla velocità delle porte dei computer stessi e via dicendo. Ci sono sempre stati, quindi, nel corso del tempo, tantissimi elementi che hanno progressivamente dato dei vantaggi ai fotografi che sceglievano di aggiornare le tecnologie a loro disposizione. E non parlo solo in termini di tempo, anzi, ma soprattutto in termini di qualità del prodotto finale. Questo non vale, ovviamente, solo lato hardware, ma anche e soprattutto lato software. Per fare un esempio facile facile, possiamo pensare alla possibilità di poter creare le Smart Preview all'interno di Adobe Lightroom, che ci danno la possibilità di poter ottimizzare i cataloghi. Questo ci ha regalato maggiore fluidità nel poter lavorare le fotografie, perché in passata alle volte c'era anche un secondo di lag per passare da una foto all'altra e la post-produzione massiva diventava davvero snervante, direi, e non solo faticosa, ma poteva anche portare tanto stress e tanto nervosismo. Perché poi alla fine è sempre quello il punto, è sapersi mettere nella condizione di poter lavorare il più serenamente e produttivamente possibile, perché è proprio nella serenità del lavoro che si raggiungono i migliori risultati. Per questo, personalmente, amo aggiornare costantemente il mio workflow di lavoro usando tutti gli strumenti che la tecnologia mi mette a disposizione, così da poter non solo affrontare il mio lavoro con maggior gioia e con maggior serenità, ma anche di fornire ai miei clienti quello che di meglio offre, il mercato. Ed è proprio questo lo scenario in cui l'AI fa il suo ingresso, perché si presenta come uno strumento in grado di andare a ridurre considerevolmente non solo i tempi delle operazioni meccaniche che ogni fotografo fa, ma anche di innalzare la qualità di certe operazioni. Premesso tutto ciò, entriamo nel vivo di questo video, perché oggi vi racconto il mio workflow di lavoro per quel che concerne l'aspetto della post-produzione e della consegna dei file ai miei clienti. Il primo software che uso per selezionare le fotografie è ancora il buon vecchio Photo Mechanic. Negli anni siamo arrivati alla versione 6 e non ho ancora deciso di mandarlo in pensione, nonostante l'intelligenza artificiale sia già in grado di supportarci anche nel processo di selezione delle nostre fotografie. Alcuni sostengono che grazie agli update di Lightroom adesso non sia più necessario avere un software esterno come questo per andare a selezionare i RAW in modo fluido, ma personalmente non concordo con queste persone e fra un attimo vi spiegherò anche il perché. Grazie a Photo Mechanic potete scorrere i RAW dei vostri scatti a una velocità e fluidità incredibile e questo senza nessuna operazione particolare. Vi basterà trasportare i file all'interno del software poi andare a selezionare usando le stelline oppure i colori. Personalmente uso le stelle e metto una stella alle foto che mi interessano. Una volta fatto questo ci sono due opzioni. La prima è quella di trasportare direttamente all'interno di Lightroom le foto selezionate con Photo Mechanic e per farlo vi basterà semplicemente trascinarle e la seconda è quella di trasportare tutte le foto scattate. Personalmente preferisco sempre la seconda questo perché mi piace avere sempre tutto lo scattato all'interno del catalogo. Una volta fatto questo vi ritroverete all'interno di Lightroom tutte le stelle che avete inserito precedentemente in quanto questi programmi si parlano attraverso gli XMP. Se invece avevate già importato le foto nel vostro catalogo vi basterà selezionarle tutte, premere il tasto destro e fare Read Metadata. A questo punto vi ritroverete automaticamente tutte le foto selezionate con le stelle anche all'interno di Lightroom. Importantissimo! Se usate Photo Mechanic ricordatevi che quando aggiornate la versione è possibile che si resettino le impostazioni. A quel punto è fondamentale che le ripristiniate altrimenti Lightroom non riconoscerà i vostri file selezionati. Per farlo vi basterà cliccare qui il fulmine per adeguare i colori ma soprattutto nella sezione IPTXMP mettere il flag su Add Embedded Metadata. Segnatevi questa cosa per non impazzire un domani come spesso ho fatto io in passato purtroppo. Se invece scegliete di selezionare direttamente con Lightroom che negli anni è oggettivamente diventato molto più veloce sarete però costretti a fare dei passaggi extra che personalmente ho completamente rimosso dal mio workflow di lavoro ovvero dovrete preparare il catalogo attraverso le anteprime. Personalmente non lo faccio più di generare né le anteprime standard né le avanzate risparmiando così non solo un sacco di tempo ma anche un sacco di risorse lato macchina. è importante sapere che l'AI qui già può darvi una mano considerevole perché Imagine AI, il software che vi ho presentato nel video di cui parlavo all'inizio vi può supportare anche nella selezione delle vostre fotografie. Al momento personalmente non ho introdotto questo step nel mio workflow di lavoro perché sono nel pieno delirio della mia stagione lavorativa e ho bisogno di un attimo di tempo per poter valutare bene in modo davvero accurato il funzionamento di questa funzionalità. La selezione delle foto per me infatti avviene quasi esclusivamente di pancia e quindi la considero una delle fasi più delicate e importanti all'interno del mio workflow di lavoro e pertanto ci tengo in qualche modo a procedere per gradi. Ovviamente testerò in modo approfondito questa funzione ma lo farò non appena si incalmeranno in qualche modo un po' le acque e a quel punto non mancherò ovviamente di aggiornarvi anche qua sul canale. Nella gestione dei file già qui ci sono le prime differenze. Fra i colleghi c'è chi usa un solo catalogo per tutti i lavori e c'è chi fa un catalogo all'anno chi invece crea un catalogo per ogni servizio e via dicendo. Io sto un po' nel mezzo fra queste strade perché creo un catalogo per ogni cliente. Che vuol dire questo? Semplice vuol dire che all'interno del mio catalogo può esserci un solo servizio fotografico ma potrebbero essercini dentro anche di più. Che ne so, wedding, un engagement, una sessione di ritratti piuttosto che un servizio per un brand in una location e in un'altra location. Tutto dipende da quello che mi commissiona il cliente che funge in qualche modo dal raccoglitore per tutti i servizi che faccio per lui. Questo modello logico, diciamo, lo uso anche nel delivery dei file ma essendo la gestione dei file un altro processo magari se vi interessa poi lo approfondiremo in un video dedicato. Fatemelo sapere ovviamente qua sotto nei commenti che così posso creare tutta una serie dedicata ai vari aspetti del mio workflow di lavoro. Ora, una volta che il catalogo è pronto entra in gioco proprio lui, ovvero Imagine AI. Il prossimo step è infatti quello di dare in pasto le foto selezionate all'intelligenza artificiale. Scegliere il mio profilo, ovvero Modern Elegance e aspettare una decina di minuti poi scaricare il catalogo con tutte le foto già post-prodotte con il mio mood e i miei colori. Simultaneamente alla post-produzione questo software si occupa anche di archiviare i miei file nel cloud creando così una copia online del mio lavoro e garantendo non solo a me ma anche al mio cliente la sicurezza di avere un archivio online contenente tutte le fotografie del loro servizio. Come ho detto prima però in questo video non approfondirò questo aspetto ma se vi interessa fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Una volta scaricato il catalogo con le foto post-prodotte sono pronto non solo per la revisione delle foto ma anche per dare quel tocco in più che in qualche modo fa sempre la differenza. Parlo di trasformare alcune foto in bianco e nero per esempio ma anche di andare a fare delle modifiche davvero di fino in alcune fotografie e di farlo sempre grazie all'intelligenza artificiale. In pratica ho demandato interamente all'AI tutto il lavoro più ripetitivo e meccanico che devo fare quello che è un po' da catena di montaggio diciamo. Revisionare e trasformare in bianco e nero le fotografie è uno step davvero veloce e davvero molto semplice da fare nel mio workflow. Quello che normalmente faccio è applicare il mio preset in bianco e nero alla prima foto che non voglio consegnare a colori. Poi vado a copiare i settaggi fatte accensione per il bilanciamento del bianco l'esposizione, i crop e eventuali raddrizzamenti o correzioni geometriche o maschere che posso aver fatto. Una volta fatto questo continuo a revisionare le foto già post-prodotte dall'intelligenza artificiale e quindi già tutte con il bilanciamento del bianco giusto l'esposizione impostata nel modo corretto i colori perfettamente bilanciati anche fra macchine diversi e via dicendo. E quando ne trovo una che a mio gusto è più efficace in bianco e nero molto semplicemente faccio copia, incolla e la trasformo istantaneamente da colori a bianco e nero. Ora, nel 98% dei casi questo è sufficiente ma in alcuni casi quando applico il bianco e nero è necessario magari modulare un po' l'immagine quasi mai in termini di luminosità ma può capitare che sia necessario rimodulare magari il bilanciamento del bianco per avere i toni e il mood che piacciono a me. Ora, siccome questo processo è veramente molto veloce e questo non solo grazie all'AI che ha già post-prodotto le mie fotografie ma anche perché metto davvero una grande attenzione in fase di scatto affinché poi tutto questo processo di post-produzione sia il più fluido e il più semplice possibile. Questo mi permette in questa fase di avere tutto il tempo e la serenità di andare a sistemare a mente fresca ogni genere di dettaglio fino anche a rimuovere degli elementi più complessi da alcuni scatti quando è necessario perché magari non aggiungono niente alla fotografia ma anzi la rendono più caotica e meno leggibile. Faccio questo passo sempre grazie all'AI ma stavolta usando quella di Photoshop con l'ormai stranominato Generative Fill dal Lightroom quindi vado a aprire l'immagine con Photoshop e la lavoro grazie all'AI messo a disposizione da Adobe. Per farlo è sufficiente selezionare grossolanamente il soggetto da rimuovere poi dare delle indicazioni al programma o anche semplicemente non dire nulla. Normalmente il risultato è rapidamente soddisfacente quindi a quel punto salvo la foto e me la ritrovo corretta all'interno del catalogo già pronta per l'export. Importante, ricordatevi che questa funzione ha bisogno dell'accesso a internet questo perché Photoshop si serve dell'enorme catalogo di stock di Adobe per avere in qualche modo i suoi riferimenti. Vi dico questo perché se come me post producete che ne so in aereo queste foto normalmente non possono essere sistemate quindi le marco di rosso per poi sistemarle alla prima occasione quando ovviamente ho la rete nuovamente a disposizione. Ora, questi due processi sia la post produzione tramite Imagine AI sia l'uso del generative fill di Photoshop mi permettono di fare operazioni che sarebbero state praticamente impossibili per me in passato o che normalmente mi avrebbero richiesto ore e ore di lavoro ma invece adesso posso farlo serenamente in pochissimi minuti con mente fresca e non affaticata a tutto vantaggio dell'obiettivo finale che è e resta sempre il punto focale di ogni mio workflow di lavoro ovvero consegnare al cliente il massimo della qualità possibile nel minor tempo possibile. Se ancora non l'avete fatto vi ricordo che potete provare Imagine AI ovvero il software che uso per la post produzione in modo completamente gratuito attraverso il link che vi lascio qua sotto in descrizione che vi darà la possibilità di creare il vostro profilo AI personale e di post produrre gratuitamente ben 1500 vostre fotografie così da decidere da soli se questo software può fare al caso vostro oppure no. Se invece vi piacciono i miei colori vi piace la mia post produzione sappiate che potete usare Modern Elegance ovvero il mio profilo AI personale e avere così le vostre fotografie post prodotte con i miei colori e il mio mood proprio perché Imagine AI ha imparato direttamente da me come farlo studiando migliaia e migliaia di fotografie post prodotte una a una attraverso proprio le mie mani. Trovate tutte le informazioni nel mio shop che è sempre linkato in descrizione a ogni video. Ora, una volta che questa fase è conclusa quello che faccio è esportare le foto e andare a preparare la gallery per i miei clienti. Il software che uso in questo caso è PicTime ovvero un servizio di cloud che mi permette di fornire ai miei clienti non solo delle galleri private belle da vedere e fruibili da ogni dispositivo ma gli dà anche la possibilità di poter condividere il mio lavoro con tutti i loro amici in giro per il mondo andando anche a nascondere eventuali foto che non vogliono mostrare in qualche modo alle altre persone. PicTime inoltre offre anche la possibilità di creare delle slideshow oltre che tutta una serie di automatismi interni per offrire promozioni ai miei clienti incluso uno shop dedicato dove poterli mettere a disposizione tutta una serie di prodotti inclusi prodotti che offre esclusivamente il mio studio che poi loro potranno acquistare e ricevere comodamente a casa con la stessa identica logica di un qualsiasi acquisto su Amazon. Vi lascio il mio codice sconto anche per PicTime qua sotto in descrizione che vi dà diritto a un mese gratis di utilizzo di questo software nel caso in cui foste interessati o foste semplicemente curiosi di capire come funziona. Non entrerò ulteriormente nel dettaglio di questa fase perché come vi ho già detto se siete interessati ad altri step fasi del mio workflow di lavoro fatemelo sapere sotto nei commenti che approfondiremo poi insieme tutti i vari aspetti con dei video specifici. Per concludere direi che da quando la ISSI è ormai globalmente diffusa alcune operazioni che prima erano straordinarie sono diventate a tutti gli effetti ordinarie a tutto vantaggio ovviamente della semplicità del lavoro e della qualità finale che viene consegnata ai clienti. Come spesso avviene però davanti alle novità si creano delle rotture anche molto profonde all'interno della community dove c'è chi vede opportunità e chi invece vede un impoverimento o addirittura una minaccia. Quale che sia il vostro pensiero però il mio invito è quello di imparare a valutare con la vostra testa quello che è più utile al vostro lavoro senza farvi trascinare dai pensieri della massa e accettando che l'unica vera costante di ogni modo di lavorare dovrebbe essere la sua predisposizione al cambiamento. Se ragionerete in questi termini sarete sempre in grado di capire quando i nuovi strumenti faranno davvero al caso vostro e quando invece no. Sono sicuro infatti che da professionisti avrete sicuramente a cuore la qualità del prodotto finale da consegnare ai vostri clienti e per questo volete ovviamente supervisionare personalmente ogni piccolo step del vostro workflow di lavoro. Ma voglio anche ricordarvi che come esseri umani è fondamentale che anche la qualità della nostra vita e la serenità con cui ci relazioniamo e svolgiamo il nostro lavoro sono variabili che vanno assolutamente inserite all'interno dell'equazione. Per questo è chiave valutare quali sono gli strumenti più giusti per noi ed essere sempre anche pronti ad aggiornarli questi strumenti quando e se serve senza diventare vittime della nostra stessa resistenza al cambiamento. Questo è importante non solo in termini di capacità operativa ma come professionisti anche in termini di saper fare marketing con il nostro lavoro avendo la capacità di saper interpretare bene gli strumenti del nostro tempo invece che arrivare in qualche modo sempre dopo e vivere avendo in qualche modo la perenne sensazione di arrivare sempre in ritardo sulle cose. Io so che spingo sempre molto su questi aspetti di mindset cosa che faccio anche come un martello pneumatico all'interno della mia scuola di formazione ma credo che il modo in cui noi ci relazioniamo al mercato e alla nostra professione può davvero fare tutta la differenza del mondo soprattutto nel lungo termine. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete domande in merito al mio attuale workflow di postproduzione e fatemi sapere se e come l'AI ha cambiato il vostro workflow di lavoro. Non dimenticatevi di lasciare un like a questo video e di condividerlo con amici o colleghi che potrebbero essere interessati all'argomento e noi come sempre ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Bella! Ciao! 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 Grazie a tutti.